. Superbicke, Yamaha conferma l'Oves per il 2018. Superbicke, Yamaha conferma l'Oves per il 2018 contratto prolungato di un anno, correrà ancora al fianco di Van Der Mark. La Yamaha ha deciso di non cambiare formazione per il prossimo mondiale Superbicke. A fianco dell'olandese Michael Van Der Mark, già certo del posto anche per il 2018, è stato infatti riconfermato Alex Loves, che ha firmato un contratto annuale. . Il 26enne pilota britannico è attualmente quinto in classifica generale con all'attivo due piazzamenti da podio oltre al successo, importantissimo, alla 8 ore di Suzuka. . 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